Qualche piccolo tasto rapido che ci aiuta e semplifica la vita all'interno di Excel. Selezionare tutte le colonne o tutte le righe finché non trovo uno spazio. Si tiene premuto il tasto CTRL, SHIFT e poi si preme la freccetta verso destra, così vado verso destra. Quando trovo uno spazio lui si preme, se voglio continuare ripremo la freccettina verso destra. CTRL, SHIFT, freccia giù, ci permette di andare fino giù in fondo. Ovviamente quando trovo uno spazio si ferma e eventualmente se vogliamo andare oltre ripremiamo la freccetta. Se uso solo il CTRL e le freccette per spostarmi mi sposto da un punto all'altro della mia tabella. Un'altra cosa interessante è usare i tasti pagina su pagina giù della tastiera. Quando premo scrollo di una pagina verso il basso piuttosto che vado verso l'altro. Se voglio andare a destra devo supportare il pagina su pagina giù con il tasto ALT. Quindi premo ALT, pagina giù mi sposto verso destra. Ultimissima, tenendo premuto il tasto CTRL e utilizzando sempre pagina su pagina giù mi posso spostare agevolmente all'interno dei fogli Excel.